Non solo porte girevoli in casa Virtus Francavilla, tra entrate e uscite, ma anche grandi e solide certezze. Pilastri inamovibili all'interno della rosa bianca-azzurra, con la società che ha dimostrato con i fatti, quanto preannunciato a parole dal presidente Antonio Magri, non c'è la necessità di fare cessioni eccellenti o di sacrificare i big e a cascata sono arrivati i rinnovi contrattuali. Il primo è stato quello di Patierno, che lo scorso anno è stato disponibile solo per metà campionato e capace di sfiorare la doppia cifra in termini realizzativi e conquistare il cuore dei tifosi con tanto di personalissimo coro dalla curva sud. Poi è toccato a Miceli, un vero e proprio comandante della difesa. Le sue indicazioni per i compagni si ascoltavano con piacere persino dalla tribuna, un sergente di ferro nello spogliatoio insostituibile al centro della retroguardia. Dopodiché è stata la volta di Riccardo Idda, sul quale Calabro non avrebbe potuto che dire sì, lo tengo al 100%, con lui ha condiviso la meravigliosa esperienza del primo storico anno DC della Virtus e a differenza di Miceli è sì un leader, ma di quelli silenziosi a cui basta mezza parola. E infine ha prolungato anche Maiorino, per molti diretto a Pescara e Latina, ma per la Virtus da sempre incedibile, un filo conduttore, prolungamenti tutti fino al 2024, testimonianza del progetto biennale che ha in mente la società bianca-azzurra. Non è da escludere comunque che possa arrivare il rinnovo anche per altri calciatori. Intanto proseguono i lavori in ritiro giovedì e in programma un test in famiglia contro la primavera, un'ulteriore sgambata per la squadra di Calabro per mettere minuti nelle gambe in vista dei primi impegni ufficiali.